Parliamo adesso di elezioni europee, mancano dieci giorni al voto e dunque proseguono i candidati, proseguono i tour elettorali dei vari candidati, in questo caso parliamo della circoscrizione meridionale a Chieti Scalo. Ieri pomeriggio è arrivata l'uscita annunziata insieme a Manola Di Pasquale della lista del Partito Democratico hanno incontrato i cittadini in un evento pubblico. Sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli, il commissario alla ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini. Nel corso dell'incontro Lucia Annunziata, capolista del Partito Democratico da indipendente nella circoscrizione sud, ha conversato con il direttore di Reteotto Carmine Perantuono sui temi dell'informazione, della comunicazione elettorale e della stretta attualità politica anche in chiave europea.